Ragazzi, facciamo il regolo di Natale? Sì! C'è qualcuno che comanda la macchinina dietro la schiena! Non cercatevi, non scatate questo! Vi vedo pronti e carichi! Dopo! Vieni! Su, su, alzare le chiappe! Sì, è pronto! Max, vieni a darci una mano! No, Valeria si sposta con la schiena rotella! Valeria ha tolto un neo sotto la pianta del piede, abbiamo tolto i punti e si è riaperta, quindi deve camminare così! È il suo mezzo di locomazione! Facciamo vedere, Elena, come si sposta Valeria col tuo aiuto? Vai! Qua! Che bucala via! Ok! Olè! Riporterò di là che dobbiamo fare l'albero! Vai! Olè! Olè! No, parla! Ecco io! Pronti! Atenti via! We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, and a happy new year, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, and a happy new year, Ok, non c'è più niente! Vi invitate a mettere le palline? Posso mettere questo uomo di barco a panni? Posso mettere questo buzino? Questa è una cosa che ho fatto per andare in terza! Vicky! E se andassimo a prendere quella che manca, mentre loro mettono le palline? E quindi registrerà solo noi due? Sì, registrerà voi! Noi andiamo a prendere le palline! Andiamo a riprendere! Andiamo! Andiamo! E poi le scene, i film, in cui qualcuno guarda tipo una palla rossa nell'albero e vedono i loro, i loro, i loro specchiati! Ma non ti vuol dire che si mette tutta roba? No, io guardo lì! Non ti mette l'unione! Un dolce! Non è vero? Wow! Abbiamo trovato un dolce per questo sacchetto! E' geloche! Questa l'uomo è con io! E' la cosa più bella di me! Ditemi se non è bella! Date un like se dite che è bello e date un like se dite che non è bello! Comunque quindi danno sempre un like? Sì! Ehi, ok! E' Karl! c'è da ma? c'è da come ti tiro il cuore dai dai cosa? dai dai cosa? cosa? c'è da un po' 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 e ho scoperto il suo fegato ma se non è il mio fegato è il suo fegato ha un uomo di margapane ditemi se non è carina con questa faccia super serio torno subito è super serio è verete è super serio super serio ok ma non si divertirà facciamo in modo molto divertermi riderà quando vedrà questo e poi se lo vedrà qui guarda cosa erano fatte qui quando erano lì questa è la prima volta che solo io e me ne siamo stati in camera mai anche se era una bella in camera la videocamera la videocamera la videocamera scuola te l'abbiamo rendata abbastanza secondo me no secondo me si tutto questo babbo e poi facciamo indietro e concediamo alle altre parti ecco qua un bollicino forse di vaneria perfettamente oh non è nemmeno questo volevo farlo un video mettiamo se voi non sapete nemmeno i nostri pesciolini allora voi ve lo avete visto nel video di noi siamo andati a prendere i pesciolini infatti quando sono arrivati i nostri due e nove compagni che si chiamano? rossina rossina rossino quando ritorneranno? non è nemmeno il numero di chi però proprio tipo 30 minuti di questo video c'erano me e Elena fare cose a caso non so che ora è il mio vostro che dico nel video non ci sarà fare qui la regola di Natale più funny moments con Nick e Elena e tu dove porto e due di quelle dopo questi quattro è finito avete finito? no in realtà abbiamo finito allora mettiamo un attimo in pausa fate un ultimo saluto quante palline già è una troppo di palline diverse spettacolare infatti abbiamo messo apposta tutto in colore così almeno c'è un po' di musica altre palline ma questa è a casa si è gioco mamma non sapete il pavimento? è casino attenzione Mico se vuoi aprire ancora direi ok adesso vi la faccio perché ci vuole via a chi ve la faccio? tutti vicini tutti vicini vieni eh eh no non lo indiciamo che andava bene eh bravo senti si vede dritto no no è questo perché devo saltare sennò scusami ok io ero stato sento con lei però quello eh ok facciamo un altro di backup è successo fare una tavoletta è triste no 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 questo mi ha dato salto ok 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 stupido stupido sì 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 sì